ciao benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale benvenuti a tutti i miei nuovi iscritti allora oggi un video nuovo è un video in collaborazione con Temu che mi ha contattata via mail e mi ha mi ha dato 130 euro di diciamo di buono per poter acquistare sul suo sito e quindi per potervi portare una recensione onesta qui sul canale allora prima di cominciare mi raccomando lasciatemi un like al video e iscrivetevi al mio canale youtube attivando la campanella per non perdervi nessuno dei miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social soprattutto su instagram che è il social che uso di più in assoluto ok il pacco mi è arrivato qualche giorno fa e credetemi è stata dura non aprirlo perché lo volevo comunque aprire qui con voi per una first impression il video verrà diviso in due parti nella perché comunque ho fatto un mega ordine veramente grazie a queste 130 euro diciamo di buono per acquistare sul sito e praticamente ho preso una parte di vestiti tra canotte pantaloncini via dicendo è una parte di accessori quindi lo dividerò perché altrimenti il video durerebbe 250 mila anni quindi la prima parte sarà la parte in cui io vi mostrerò i vestiti che ho acquistato e poi la seconda parte nella seconda parte vi mostrerò tutti gli accessori che ho preso per i capelli per il makeup e via dicendo quindi mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi attivate la campanella per non perdervi poi il prossimo video la seconda parte di questo video allora cominciamo subitissimo qui c'è il pacco eccolo qua che pesa tantissimo c'è tantissima roba qui dentro mi sono divertita moltissimo ad acquistare sul sito anche perché chi è che non conosce il sito di temu comunque è una piattaforma di e commerce che vende tutto 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 con dei prezzi bassissimi infatti ho letto che su questa piattaforma è possibile fare e spendere come se si fosse ricchi perché comunque i prezzi sono veramente bassi e competitivi e quindi comunque una si può sbizzarrire perché vende accessori per la casa accessori per i capelli per il makeup vestiti tutto a prezzi assolutamente stracciati infatti con 130 euro ho fatto un super mega ordine e mi sono divertita tantissimo anche perché è molto divertente navigare su questo sito perché si trovano delle cose che nei negozi fisici soprattutto qua in italia non è che si trovano facilmente e quindi mi sono proprio sbizzarrita ne ho approfittato anche per prendere dei capi di abbigliamento che siano in palette con la mia stagione armocromatica quindi insomma bando alle ciance cominciamo con lo spacchettamento comunque c'è da dire che innanzitutto vi lascio il codice sconto che mi hanno dato perché acquistando e inserendo il codice sconto che mi hanno dato avrete un 30 per cento in più di di sconto sul cose che acquistate quindi io vi lascio qua il codice sconto in sovraimpressione ma vi lascio anche tutte le informazioni sotto nell'info box i metodi di pagamento che sono svariati si può pagare anche con con paypal quindi comodissimo e super sicuro e ci sono comunque molte tutele per chi acquista su questo sito quindi potete stare assolutamente tranquilli e vi lascio comunque qua gli screenshot dove vi mostro tutti i metodi di pagamento e non mi dimentico di dirvi niente ma poi troverete tutto riportato sotto in info box quindi potete stare tranquilli sotto questo punto di vista allora direi di cominciare subito con questo spacchettamento perché io sono super super curiosa di vedere le cose che ho acquistato di vederle e doccarle con mano per capire se appunto ci sia questo ottimo rapporto qualità prezzo che comunque di cui comunque tutti quanti parlano vedremo ecco qui il pacco ben sigillato e che vado ad aprire con voi ho dimenticato di dirvi che spedizione e reso sono gratuiti quindi comunque dovete fare una spesa se non ricordo male comunque è scritto nello screenshot e ve lo lascio scritto anche sotto dovete fare una spesa minimo di 10 euro e comunque spedizione e reso nel caso in cui il prodotto che vi arriva non è diciamo come ve lo aspettavate o arriva danneggiato e via dicendo è assolutamente gratuito e non si paga neanche la dogana perché comunque con tutto questo gran fattore che io non ho pagato la dogana quindi ecco qui io lo metto qua perché non so come sono divise le cose avendolo aperto adesso e siccome l'oggettistica la farò vedere nel prossimo video devo tirare fuori soltanto i vestiti quindi cominciamo con il primo questo qua è un vestito un vestito color borgogna è messo in questo sacchettino tutto ben sigillato ed imballato io è bellissimo ragazzi veramente bello mano a mano che vi mostro le cose vi metto qua accanto la foto con il prezzo e via dicendo veramente bello a questo spacco è veramente bellissimo questo vestito il tessuto comunque sembra molto fresco e l'ho preso questo colore color borgogna perché appunto il borgogna è un colore che è nella mia palette ne ho approfittato perché ogni volta che vado nei negozi fisici qua in italia ci sono sempre gli stessi colori e poi comunque ci sono sempre colori che ne so magari in primavera ci sono colori che magari non mi stanno bene oppure in autunno spesso ci sono colori che non mi stanno bene e quindi ci sono sempre colori standard quindi sempre il nero il bianco devo andare sempre su questi colori mentre su questo sito c'è una vasta scelta di colori tra cui appunto orientarsi e quindi ho potuto comprare colori diversi dal solito nero dal solito bianco insomma dai soliti colori che utilizzo sempre per essere un pochino più in palette con la mia stagione ermocromatica e il borgogna se siete inverno come me è sicuramente un colore che vi donerà questo è il primo vestito procediamo non so cos'è questo non me lo ricordo vediamo comunque la spedizione è molto veloce anche rispetto ad altri siti perché io mi ricordo che ho ordinato in altri posti e praticamente le cose mi sono arrivate dopo un mese e due mesi invece in questo caso qui su temo le spedizioni sono super veloci per essere comunque un sito asiatico cioè comunque arrivano subito le cose cioè subito per quanto possano arrivare subito dall'estero naturalmente perché mi è arrivato in circa una decina di giorni quindi top mi sono praticamente rifatta il guardaroba ragazzi perché comunque guardate che bella questa maglietta è una magliettina bianca con il fiore di loto stampato io amo questo genere di cose molto bella molto fresca il tessuto sembra di buona qualità comunque i pezzi di sopra penso che me li troverò a mano a mano che ve li faccio vedere ora vi mostro come mi sta questa maglietta anche perché sono molto curiosa spero solo di non sporcarla con il trucco ragazzi mi sta perfetta guardate che bella proprio è perfetta è bellissima la mia paura la mia paura era appunto che magari le misure non non fossero diciamo giuste ecco perché comunque ho sempre questo timore quando vado ad acquistare online poi comunque essendo un sito asiatico magari li hanno altri metri di misura però praticamente è semplicissimo acquistare capi di abbigliamento perché basta che vi misurate e praticamente a seconda delle misure del vostro la vostro petto vita e fianchi a secondo delle misure praticamente vi danno la taglia la mia è una taglia m a seconda della mia misura e per il momento per quanto riguarda la maglietta è perfetto non so le altre cose che mi dovrò provare per vedere se mi stanno però la maglietta mi sta bene è molto confortevole è molto fresca il tessuto mi piace molto molto non è un tessuto che dà fastidio quindi super super approvata veramente in ogni caso navigare sull'app di temu è davvero molto molto semplice vi consiglio appunto di scaricarla perché è molto più pratico comprare comunque dall'app e quindi vi lascio qua lo screen per farvi vedere un po l'app per farvi vedere diciamo come si inseriscono le cose nel carrello ma penso che un po tutti ormai conosciamo quest'app perché comunque è praticissimo e poi ripeto i prezzi sono veramente stracciati e ricordatevi che con questo codice sconto avrete il 30 per cento di sconto in più su quello che acquistate quindi mi raccomando non dimenticatevelo e diciamo che fino adesso sono assolutamente soddisfatta questa maglietta mi calza a pennello meno male bisogna vedere le parti di sotto come come vanno ecco continuiamo intanto mi tengo questa maglietta devo togliere le cose che vi devo far vedere nel prossimo video perché non voglio spoilerarvele ok questa è un'altra magliettina che ora mi metto e l'ho presa grigia grigio grigio fumo grigio scuro perché il grigio è un colore che mi dona tantissimo guardate quanto è bella con i cuori già già mi piace perché comunque è bella il tessuto è sempre come pure la maglietta bello fresco sembra molto resistente insomma guardate qua quant'è carina ora me la metto così ve la faccio vedere addosso anche questa mi sta perfetta ragazzi guardate che bella quindi confermo che le misure quantomeno per la parte di sopra poi vedremo quando misurerò i vestiti e il pantaloncino e via dicendo le misure per la parte di sopra sono assolutamente top è molto molto bella il grigio è un colore che mi sta molto bene quindi fra come il nero diciamo è un colore che mi piace tantissimo come mi sta quindi top veramente bella con questi cuori sampati proprio come era nel sito è dal vivo assolutamente confermo proseguiamo ok questo è un pantaloncino vabbè comunque ve lo metto qui questo non lo indosso adesso ve lo metto comunque di lato per farvelo vedere mi pare che è il pantaloncino sì molto bello adoro scusate l'ho messo al contrario ok ce la possiamo fare eccolo qua guardate che bello è un pantaloncino da spiaggia ecco la mia paura sono i pantaloncini perché generalmente io sotto o essendo diciamo un pochino più grossina di sotto rispetto al sopra praticamente che cosa succede che a volte non mi entrano dai fianchi oppure una volta tirati su magari mi stanno larghi di vita adesso sai che faccio non lo mostro perché non è fattibile così poi magari mi farò una foto e la imposterò ora io me lo metto me lo metto e vi dico se mi sta ve lo dico se mi sta vediamo perché sono curiosa di vedere e voglio comunque dirvelo già in video se anche le misure di sotto corrispondono a quelle che comunque ci sono sul sito quindi ora ve lo dico subito me lo metto confermo anche le misure di sotto top è leggermente più alto in vita di quanto mi aspettassi però comunque sia è veramente comodissimo è comodissimo ragazzi non so se è quanto riuscito a vedere comunque mi sta mi sta e ha questo elastico molto comodo che non dà fastidio generalmente a me le cose con gli elastici danno fastidio invece questo è molto molto confortevole calza al pennello il tessuto è fresco esce come pantaloncino per andare in spiaggia ed è veramente veramente carino ne ho preso uno di questo colore e uno di un colore grigio scuro come questa maglietta rieccomi guardate che carino c'è scritto beach è veramente bello quindi corrispondono anche le misure di sotto top molto bello proseguiamo proseguiamo questa nuova dopo vedere la prossima volta anche questi sono per la prossima volta perché ho preso molti accessori a ecco questi un set di tre pezzi di canottiere le ho prese in tre colori basic che sono colori che mi stanno abbastanza bene e quindi sono dei top dei toppini ne ho presa una grigia chiara perché il grigio mi sta bene in tutte le tonalità oddio che sono morbide sono morbidissime non so quanto saranno calde in realtà perché comunque sono un tessuto che sembra abbastanza pesante in realtà però sono devono essere comodissime queste ora me ne provo me le mancina ora me le provo tutte e tre perché un pezzo di sopra me le provo tutte e tre ne ho presa una grigia una bianca sono tutte e tre uguali a costine una bianca e una l'immancabile nero che è la mia comfort zone è uno dei colori che mi sta meglio eccolo qui e adesso me le provo tutte e tre così ve le mostro come mi stanno quindi sono dei toppini corti ragazzi sono fantastici sono bellissimi sono corti ma calzano alla perfezione sono veramente veramente soddisfatta ragazzi di questi acquisti io onestamente non me l'aspettavo che le cose fossero così tanto di buona qualità e poi calzano a pennello cioè sono bellissimi sono manda un po di calore in realtà però praticamente è talmente scoperto perché è comunque un toppino e poi è cortissimo quindi che comunque è impossibile sentire caldo ecco però il tessuto manda un po di calore perché comunque è tipo non riesco a capire se è velluto io non me ne intendo di tessuti però però devo dire che calza a pennello non fa nessuna piega non si allarga proprio mi calza alla perfezione come se fosse stato disegnato sul mio corpo sono soddisfattissima ora mi provo gli altri due così vediamo pure il colore e come è come calzano ma penso che siano uguali perché è la stessa misura erano messi a pezzi di tre e c'erano anche altri colori però io ho preso quelli che sono in palette con la mia stagione armopromatica questo è quello bianco fantastico anche questo mi piace tantissimo dietro sono così è veramente bello top mi piace un casino anche questo mi calza alla perfezione come quello nero proviamo l'ultimo grigio e poi proseguiamo perché ci sono altre cose a livello di outfit che vi devo fare vedere ragazzi che ho già detto che amo il grigio lo sentirete spesso guardate che bello anche questo grigio veramente fantastico sono stra mega super soddisfatta ragazzi continuiamo con lo spacchettamento perché dovrebbero esserci un altro paio di cosine questa maglietta questa maglietta me ne sono innamorata appena l'ho vista anche questo colore è un colore che è nella mia palette perché ho la palette di là che vi ho fatto vedere in un video mi pare nel video in cui vi mostravo vi mostravo il la palette di revolution l'ultima che ho preso e questo colore c'era guardate quanto è bella questa maglietta è bellissima io la adoro guardate che bella a me piacciono tanto questa tipologia di magliette io sono un tipo diciamo che deve essere comunque prevalentemente sportivo è bella bella mi piace il colore e il tessuto è come le altre magliette che ho messo che vi ho fatto vedere veramente top ora la indosso e vediamo come mi sta ragazzi è fantastica la adoro è comodissima fresca guardate come calza bene con questa scollatura così la scritta ragazzi mi piace da impazzire e mi pare vedendomi dalla camera ma anche guardandomi allo specchio mi pare che questo colore mi sta molto bene perché ragazzi quando comprate i colori adatti alla vostra palette non potete fare altro che splendere e comunque anche questa maglietta è super approvata perché ha un tessuto fantastico calza a pennello ed è veramente bella esattamente come era nella foto cioè assolutamente fedele la riproduzione top proseguiamo proseguiamo questo è l'altro pantaloncino ve lo mostro velocemente perché è uguale a quello che vi ho fatto già vedere solo che è di un colore più scuro eccolo qua è identico però più scuro di questo grigio scuro sempre con la palma la scritta beach bello bello anche questo mi piace stesso tessuto perché ovviamente lo stesso pantalone cambia soltanto il colore bello andiamo avanti questa è un'altra magliettina color borgogna se non erro sì è a costine elasticizzata eccola qua con i bottoncini davanti ora me la provo e ve la faccio vedere vediamo un po come mi sta il tessuto è super scivoloso super morbido e anche super fresco vediamo un po come mi sta anche questa mi sta perfetta e io ignoravo che questo colore mi potesse stare così bene non ho mai comprato nulla di questo colore del colore del color borgogna e devo dire che la maglia mi sta molto bene e il tessuto è fresco ed è elasticizzata però senza essere fastidiosa cioè nel senso che dalla foto sembra molto più elasticizzata o semplicemente quella più roba di metterci dentro non lo so dico però sembra molto più elasticizzata rispetto a com'è nella realtà però a me se poi sono troppo 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 elasticizzate danno fastidio perché poi mi sento costretta sento pure caldo fra l'altro questa è elasticizzata nel modo giusto e mi calza alla perfezione quindi anche questa è super approvata proseguiamo perché ci dovrebbero essere due vestiti ecco qua ce n'è uno anche se penso che ora me li provo i vestiti così vi dico già in video se mi stanno perché la mia paura sono anche i vestiti che magari la misura potrebbe non calzare così vi faccio sapere vi do un'idea precisa e completa anche di come calzano i vestiti comunque questo è un vestito sempre imballato in queste pratiche costine vestito elasticizzato a costine anche questo guardate che carino bianco e celeste con i fiorellini celesti guardate com'è carino sembra anche molto comodo adesso me lo provo e così vi dico poi mi trovo anche il primo vestito che vi ho fatto vedere così vi dico perché questo è elasticizzato e molto probabilmente mi starà l'altro non è proprio elasticizzato quindi ci tengo a farvi sapere se anche i vestiti calzano a pennello ah no scusate questo era l'ultimo vestito non so perché nella mia mente nella mia testa ero convinta che ci fosse un altro vestito ho preso talmente tante cose che siccome sono passati giorni comunque dal mio ordine e quindi non ricordavo ero convinta che ce ne fosse un altro di vestito comunque adesso io mi provo questo vestito ah no i vestiti erano due perché poi ho preso prevalentemente magliette mi provo questo vestito e vi dico appunto se mi calza e mi provo il primo vestito che vi ho fatto vedere per dirvi se anche quello mi calza a pennello così ve lo dico già in video ragazzi io sono veramente soddisfatta questo vestito mi sta benissimo a parte il colore il colore mi sta bene non pensavo onestamente perché di questo colore che comunque è nella mia palette questo blu che c'è qua è per questo che l'ho preso questo contrasto piccolino di fiorellini blu con il bianco mi sta molto bene mi dà una luce pazzesca ma poi il vestito mi sta bene cioè proprio io vorrei farvelo vedere mi sta veramente bene mi calza alla perfezione questo vestito è veramente fantastico sembra cucito apposta per me questo vestito veramente top ora mi provo l'altro ma fino adesso ragazzi per quanto riguarda l'abbigliamento poi vedremo l'oggettistica nel prossimo video quindi mi raccomando seguitemi non perdetevelo e se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al mio canale adesso mi provo l'altro vestito e vi so dire se è quello perché questo è elasticizzato quindi diciamo mi calza a pennello l'altro che non è elasticizzato devo vedere come mi calza e ora me lo metto così terminiamo il video me lo metto e vi faccio vedere vi dico la mia così vi ho dato la mia opinione su tutti quanti i capi di abbigliamento che ho preso top io comunque sono veramente super soddisfatta meno male meno male perché comunque con chi mi segue lo sa io non so mentire quindi se una cosa non mi piace sarebbe stato duro essendo che sto collaborando sarebbe stato duro ecco cioè io non amo fingere quindi sono veramente felice che questi prodotti mi piacciono questi vestiti sono fantastici veramente un piccolissimo prezzo è assoluto io confermo almeno per quanto riguarda l'outfit perché comunque le altre cose le spacchetterò con voi le ho viste perché ho aperto il pacco però non le toccherò non le spacchetterò non farò niente di tutto questo lo farò con voi nel prossimo video io lo girerò domani il video così mi renderò un po' conto di come sono a livello di qualità però per quanto riguarda l'abbigliamento ragazzi l'abbigliamento ha un ottimo rapporto qualità prezzo ora mi provo l'altro vestito e così terminiamo questo video che sarà sicuramente durato tantissimo ragazzi io sono ribadisco per la centesima volta sono soddisfatta anche questo vestito questo vestito poteva non starmi bene perché non è elasticizzato assolutamente ma mi sta perfetto guardate allora qua c'è inizialmente mi ero preoccupata perché pensavo che me lo dovessi infilare così ho detto non mi entrerà mai invece no perché c'è la cerniera qua c'è una cerniera che scende fino a qua sotto e quindi te lo puoi infilare le bretelline sono comunque regolabili quindi comunque non c'è pericolo e poi mi calza alla perfezione mi scivola addosso in maniera perfetta c'è anche lo spacco nella nelle gambe e la lunghezza è assolutamente perfetta perché c'era una cosa che mi preoccupava io non sono altissima sono alta un metro e sessanta circa e quindi quando ho messo le misure le misure che ho io come altezza partiva da un metro e settanta mi pare ho detto oddio spero che i vestiti non siano lunghi e invece assolutamente no questo vestito è lungo nel punto giusto non è lunghissimo scusate il rumore non è lunghissimo però mi sta alla perfezione proprio top sono assolutamente ragazzi soddisfatta anche questo vestito appunto come vi ho detto prima è color borgogna top quindi ragazzi ricapitoliamo questo video era incentrato sull'outfit che ho preso su temu e devo dire che sono super soddisfatta di tutti gli acquisti che ho fatto rapporto qualità prezzo per quanto riguarda i vestiti l'outfit è assolutamente promosso e super 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 approvato potete andare tranquilli quando comprate vestiti almeno questi che ho preso io sono assolutamente fantastici il tessuto il modo in cui calzano non danno fastidio i tessuti non pizzicano quindi ragazzi top io sono super soddisfatta di questi acquisti di outfit ho potuto comprare tantissima roba tutta a piccoli prezzi quindi mi raccomando ricordatevi che avete un codice sconto ve lo lascio di nuovo qua in sovraimpressione e vi lascio comunque tutte le informazioni sotto nel caso in cui io mi fossi dimenticata di dirvi qualcosa sui metodi di pagamento c'è tutto scritto nell'info box e comunque all'inizio ho messo anche gli screenshot per farvi vedere un po diciamo anche il modo in cui temu vi tutela durante l'acquisto quindi potete andare tranquilli e potete acquistare in maniera super sicura e super tranquilla sul sito le spedizioni sono super veloci anche rispetto ad altri siti del genere la qualità è ottima veramente ottima anche rispetto ad altri siti è ottima perché ho acquistato in altri siti simili a temu e vi dico che la qualità che c'è su temu non è paragonabile agli altri siti quindi se volete acquistare capi di abbigliamento io vi consiglio di farlo proprio su questo sito perché comunque i capi di abbigliamento che vendono hanno un ottimo rapporto qualità prezzo calzano alla perfezione sul mio fisico hanno calzato alla perfezione non sono assolutamente delusa da nessuno dei prodotti che ho preso a livello di vestiti vi ribadisco vedremo la prossima nel prossimo video per quanto riguarda l'oggettistica che ho preso però secondo me secondo me anche in quel caso sono ottime cose con un ottimo rapporto qualità prezzo in ogni caso vedremo perché ripeto non li scarto adesso anche se il pacco è aperto li ho visti però non li toccherò non li scarterò li scarterò con voi come giusto che si faccia in un unboxing quindi domani che girerò l'altro video vedremo come sono in ogni caso per oggi è tutto mi raccomando ricordatevi sotto trovate tutti i link link al sito di temu il link per scaricare l'app trovate il mio codice sconto vi lascio anche sotto tutti i link di tutti i vestiti che ho preso così che voi possiate andarli ad acquistare inserendo anche il codice sconto che vi permetterà di risparmiare il 30 per cento in più quindi mi raccomando ragazzi super consigliato questo sito super consigliati gli acquisti di outfit top io sono super soddisfatta e ringrazio tanto tempo per aver deciso di collaborare con me è stato veramente una piacevole sorpresa a questo sito grazie a te grazie a voi che mi avete tenuto compagnia che siete rimasti fino a qui e mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like condividetelo e facciamo in modo che tempo venga conosciuto da più persone possibili perché comunque merita di essere conosciuto da più persone possibili perché acquistare sul tempo comunque è sicuramente un molto semplice a livello di acquisto molto conveniente e le cose sono assolutamente di ottima qualità quindi top ed è sicuro acquistare sul tempo ribadisco perciò mi raccomando condividete il video per fare in modo di condividere questa mia esperienza questa mia recensione totalmente onesta ragazzi se mi conoscete lo sapete che io non so fingere quindi se sono entusiasta è perché lo sono davvero e niente lasciate un like come vi ho detto iscrivetevi al mio canale youtube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social soprattutto su instagram che è il social che uso di più in assoluto ciao ciao e al prossimo video ciao